Il Comitato Provinciale si è riunito in Prefettura Bari per assicurare ordine e sicurezza pubblica nel Varese in vista delle festività pasquali. Il servizio è di Marilena Farinola. In Prefettura, nel corso della riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseduto dal Prefetto Antonio Bellomo, è stato definito il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo in ambito autostradale, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale nell'area metropolitana di Bari, in vista del prevedibile incremento dei flussi di traffico e di viaggiatori durante le prossime festività pasquali. Presente all'incontro i vertici provinciali delle forze dell'Ordine, i dirigenti della nona zona di polizia di frontiera, dei compartimenti di polizia stradale e della polizia ferroviaria, il dirigente generale e il comandante della polizia locale del comune di Bari. Particolare attenzione nei controlli sarà dedicata alle località di maggior richiamo turistico, ai luoghi di culto, ove nel corso della settimana santa si svolgeranno i tradizionali riti religiosi. Saranno inoltre potenziati i servizi di pattugliamento della rete stradale provinciale, lungo gli assi viari che portano alle località di villeggiatura e zone residenziali sulle fasce costiere e interne, e verso i luoghi di ritrovo, anche al fine di prevenire comportamenti scorretti alla guida, che in giornate di traffico particolarmente intenso, mettono a maggior rischio l'incolumità delle persone. La polizia stradale assicurerà i propri servizi sulla viabilità principale, in particolare lungo la rete autostradale, mentre i corpi di polizia locale dei comuni concorreranno nelle attività di controllo sulla rete ordinaria. Mirati i controlli saranno dedicati anche agli snodi nevralgici dei trasporti, in primo luogo all'aeroporto, alle tratte autostradali, alle strade statali di maggior afflusso, ma anche alla stazione ferroviaria e dal porto del capoluogo. Le componenti delle forze polizia statali e della polizia locale in campo hanno assicurato il massimo impegno, a garanzia della mobilità delle persone.